Salve a tutti ragazzi, io sono il famoso Plauto e oggi in questo trailer vi presenterò una delle mie opere più famose, l'Anfitrione. L'opera prende il nome dal protagonista, Anfitrione, che è un nobile guerriero impegnato in battaglia. Nel frattempo entrano in gioco gli dei, Giove e Mercurio, che prendono le sembianze di Anfitrione e lo schiavo Sovia. Giove decise di prendere le sembianze dell'Anfitrione per consumare il proprio amore con Alcmena, la moglie del nobile combattente. Cosa succederà quando l'Anfitrione tornerà a casa? Lo scoprirete presto, con il nostro spettacolo.